Grazie, Carlos Augusto, fallo laterale, battuto come un corner in aria, Bissek anticipato, 1,96m di Young Giant, respinge il Bologna ma c'è ancora l'Inter in avanti con Carlos Augusto che però perde l'attimo, poi cerca di recuperare con Christian Sen, recupera il Bologna e può ripartire con Zirk Zee che viene a dare una mano in difesa, mi sembra che il Bologna alla fine sia il classico 4-2-3-1, Odgaard gioca in questo insolito, attenzione però prima l'Inter ritrosta i bastoni, troppo lungo per tutti, diceva Odgaard è nell'insolito ruolo di ala destra perché lui è più una punta, viene anche dal settore giovanile dell'Inter, quest'anno poi a Zeta in Olanda ed è stato preso dal Bologna che guarda al futuro anche con l'acquisto del giovane Castro, si parla molto bene di quest'argentino in panchina, quindi Tiago Motta 4-2-3-1, strano, Orsolini e Ndoie che sono le due ali diciamo forti, spartono tutte e due dalla panchina ma sono armi che sprutterà sicuramente nel secondo tempo. Allora a proposito di questo turnover che non convince Simone Chiodo, o meglio ne avrebbe fatto un po' di più, così come Michele Borrelli qualcosa di più a centrocampo, tu Filadelfia che dici? Ma io secondo me ha fatto bene Inzaghi, come diceva prima. Tu sei terrorizzato dal turnover di Pioli. Beh no, sto turnover è meglio lasciarlo perdere, ma io penso che, allora bisogna essere sinceri e sportivi, l'Inter è una squadra fantastica, gioca veramente un ottimo calcio, io penso che oggi non è tanto la paura di Inzaghi ma per mantenere l'asticella alta, oggi magari una partita non bella, un risultato negativo potrebbe secondo me condizionare, come è capitato gli altri anni adesso a parte gli scherzi, e secondo me lui vuole tenere l'asticella alta, penso che comunque questa Inter ha la forza, i giocatori e tutto per giocare bene oggi e per giocare bene altre partite. L'Atletico Madrid è vero, però penso che sia superabilissima senza grossi problemi, anche senza fare un turnover. Scusa Alessandro, secondo me loro non lo diranno mai Mario, ma loro guardano più al Bologna che all'Inter, quindi non gli dispiace che non ci sia turnover dell'Inter. Scusa, dico una cosa sola, ma io parlo e sono sincero, oggi ti fare Bologna per noi milanisti non è così facile e scontato. Il Bologna è quarto meritatamente, è ovvio che se vince l'Inter, avere qui in strada quello che senti, se vince il Bologna con i nostri problemi Giovanna... Vero, però a prescindere io voglio spezzare una lancia a favore di Inzaghi, che secondo me ha fatto tesoro delle partite precedenti fatte con il Bologna, dove ha provato il turnover non solo due anni fa, ma anche in Coppa Italia quest'anno, con il risultato che l'unica squadra che ci ha buttato fuori da una competizione è stato proprio il Bologna. Quindi il Bologna è una bestia nera a tutti gli effetti per l'Inter e soprattutto per Inzaghi, quindi il messaggio è, dai miei errori voglio imparare e questa volta me la voglio giocare fino in fondo. Poi può succedere tutto, ma tra l'altro voglio aggiungere una cosa, ci sono due Inter diverse, quella con Cialanoglu e quella senza Cialanoglu. Non me ne voglia Aslani, che tra l'altro oggi fa anche il compleanno, per cui è un altro festeggiato, insieme a Giorca F e a Verona. Non vogliamo aggiungere i criminalisti mettere sempre il nome di Cialanoglu, che per noi è sempre. Però devo dire la verità che nonostante... È un nervo scoperto, mi sa, per loro. Ci mancherebbe, hanno ragione, è un po' come per noi Pirlo ai tempi d'oro. Ma sono onesti nel dire che è stato un grande errore quello per 500 mila euro, una differenza di ingaggio del genere, mandarlo e fare la fortuna poi, insomma, come successe veramente con Pirlo. Chiodo, ma qui è il mulino bianco, si è trasferito alla pinettina. Sai che io stuzzico, è vero, va tutto bene, l'allenatore migliore del mondo. Eh sì, ma loro quando vincono è così, è così. Adesso quando vincono, tutti i problemi del governo del calcio sono spariti. Non succede più, è tutto, va tutto bene, è tutto bellissimo. Quattro partite che perdono i spalati. È tutto bellissimo. Perché Bissek scende sulla destra, azione interessante dell'Inter, il tiro fuori di un niente di Darmian che si era inserito sulla destra. Peccato, peccato, il Conte, il Conte per poco non la mette. Grande incursione di Bissek, vince il rimpallo Darmian che se la trova sul sinistro in diagonale, forse doveva angolarla di più sul secondo palo, ha tirato per il sinistro però che non è il suo piede. E questa è una grande occasione però per l'Inter con Darmian. Ha coperto bene il difensore del Bologna però, non gli ha dato proprio lo spazio per cambiare un po' traiettoria. Comunque Bissek quando va avanti è un pericolo perché è difficile fermarlo, c'è una forza fisica. Non ci sono più, vedi, non ci sono più, ma non ci sono più le lamentele arbitrali che di solito contraddistinguevano. No, non ci sono più, ma adesso sono passati, sono le vostre. Sì, il famoso alibi dei perdenti, vi ricordate? Però sapete che cosa penso io, in effetti ci sono delle partite che preferirei rigiocarle. Tu guarda, già quella con il Verona a me è rimasta un po' qua anche se ero allo stadio e l'Inter in sostanza ha meritato anche di vincere. Però se concludi sempre così allora non ha senso, in sostanza ha meritato di vincere. No, ha meritato nel senso che poi alla fine un rigore contro il 95 è stato anche dato. Io mi chiedo soltanto se a parte invertite con la mia squadra ci sarebbe questa serenità. Ecco, chiedo soltanto questo, ci vorrebbe un pochino più di lungimiranza quando vincono gli altri. No, no, ma guarda che stai parlando con forse l'interista più atipico che puoi incontrare. Infatti te lo riconosco, a te te lo riconosco. A me dispiace tanto, vincere male non lo c'è. Generalmente a parte invertite certi errori arbitrali avrebbero creato una serenità in quest'annata, cioè tra arbitri incappucciati, tra riunioni in corso, tra gravina, indagata eccetera, non si capisce più niente. Ma voi siete serenità e tutto quello che non è nel caso dell'Italia. State cantando dal primo minuto. Siete serenità e non fatti, 13 subiti. Allora, io ricordo a parte invertite in questa trasmissione, quando c'erano altri che vincevano, non necessariamente la Juve, tutti i problemi del mondo sembrava di vivere in una cappa pazzesca. Non so se la conduttrice è d'accordo con me e l'Alessandro è d'accordo con me, però mi fa piacere vedere che finalmente ci può essere serenità quando vincete. Quando vincete la serenità è un po' diversa. Gli errori arbitrali quando uno vince vengono più facilmente dimenticati. Sì, ma se vinci 4-0 ok, se vinci 2-1 col Genoa con un rigore inesistente... No, io dico quando invece gli errori sono, diciamo, contro, però dopo l'Inter vince la partita perché è più forte ed è successo. Se io dico con la salernitana c'era un rigore netto su Turani. Ma ricordatelo sempre però, Borrelli, ricordatelo sempre. Questa frase adesso me la assegno e te la devi ricordare sempre. Eh no, no, non ve la ricordate sempre. Se vuoi ti posso pure ricordare, ti posso garantire, non quest'anno, adesso che vi va tutto bene, è bellissimo. No, non va tutto bene. Questa bellissima frase che hai detto. Sto dicendo che non va tutto bene, ma è più facile che quando uno vince la partita l'errore contro viene dimenticato. Ti posso fare anche un esempio. Con Sassuolo. Con Sassuolo, con Sassuolo, che sono stati fatti contro di voi, li snocciolate. Ma quest'anno te li posso snocciolare. La differenza è che però quest'anno... Voi ricordate tutto, dai, dai. Hai vinto le partite e se ne sono dimenticati tutti di quelli a favore. Prendo nota che hai fatto questa frase, mi piace molto, spero che questa frase l'ha utilizzata ancora. Ma non ci cascare, concentrati fra la partita. No, attenzione a Tudano che recupera la palla, attenzione a Barella. Sono davanti al portiere, la respinta di Skorupski. Occasione clamorosa, Inter che recupera palla nell'aria di rigore del Bologna. Ingenuità anche del Bologna dietro. E poi Barella qui se lo mangia. Veramente un'occasione clamorosa. Solo Soletto davanti a Skorupski lo prende. Ora Inter che ancora insiste con Turam che prima è stato bravo a recuperare la palla. Turam che torna dal primo minuto ancora. Carlos Augusto, il tiro in diagonale centrale. Mamma mia, ragazzi. Una blocca a Skorupski. No, ma quello che voglio dire però, io insisto su questo perché io... Poi non dare più città, vai. Ma Martino e l'energia le devi mettere lì. Non ci cascare. Noi non li bravo ragioniamo. Allora, se adesso l'Inter ovviamente è prima, allora parliamo degli episodi dell'Inter. Ma se tu parli della Juve del Milan, io ti trovo per la Juve del Milan. Quattro favori e quattro torti. Assolutamente sì. Ma facili, che li ricordano tutti. Li ha messi l'occhi nella tabella. Infatti voi siete bravi a segnalare quattro, non dodici. L'ha detto il vertice dell'aria. Sì, sì, va benissimo. L'ha detto. Juve-Bologna è successo. Stai distraendo troppo la partita. Per un attimo quasi stavamo facendo gol. Dobbiamo vincere. È una bella partita. Devo dire che anche il clima allo stadio è veramente delle grandi occasioni perché a Bologna ci credono. La Champions League non è mai stata così vicina. Dillo a Filadelfia. Che è lì che si guarda le spalle. Eh sì, sì. Però voglio dire, non è la quinta il Bologna. Quindi la quinta in questo momento è la Roma che ha 47 e ha 4 punti di ritardo sul Bologna. Anzi, in questo momento 5 perché il Bologna sta pareggiando. Barella recupera palla ancora all'Inter. C'è, devo dire, un Turam scatenato. Sta andando in pressing ovunque. E se doveva essere il tagliando per Madrid. Questa è la partita che fa dal primo minuto da Inter Atletico Madrid. Sta benissimo Turam. Sta benissimo. Anche Cialanoglu sta facendo bene. Acerbi dietro. Sono i tre un po' sotto la lente di ingrandimento perché tornano dagli infortuni. Poi sono curioso di vedere anche i cambi. Ma alcuni sono già programmati nel secondo tempo. Proprio dei tre, anzi due dei tre che ho detto perché secondo me Acerbi la fa tutta. Attenzione a Sanchez. In area di rigore. Palleggia un po', ma respinge la difesa centrale. Oggi Lukumi, il colombiano che è tornato al centro della difesa al posto di un Calafiori. Altro giocatore che sta facendo molto bene. È entrato nel mirino di spalletti per gli europei. Inter che attacca. 28 minuti. Ora con Bastoni. Inter che ha più l'iniziativa ma il Bologna che non rinuncia mai a ripartire. Ora Bissec però vede il pressing e quindi torna indietro addirittura da Sommer. Riso. Sì. Come, come, per quello che stai vedendo. È l'Inter che ti aspettavi? Sì. È il Bologna che ti aspettavi? No, ecco. Non è il Bologna che mi aspettavo. Nel senso che sono abituato a guardare un po' tutte le partite, anche quelle del Bologna. Concordavo prima con Michele che di solito il secondo tempo del Bologna è quello nel quale tira fuori più rabbia agonistica. 15 punti per loro nella ripresa. L'Inter 66 nei primi tempi. Per dire che l'Inter è fortissimo nei primi tempi. Il Bologna bravissimo a riprendere l'ultimo a Bergamo da 1-0-1-2 con l'Atalanta. Vero. Però vedo un Inter schierata in campo con molta più consapevolezza rispetto al passato. Il pallino del gioco ce l'ha più l'Inter che il Bologna. Il Bologna fa delle ripartenze. Però la cosa che mi sta piacendo molto, ad esempio, dell'Inter è che riesce a recuperare il pallone molto alto. Fa un pressing più alto del solito nella fase di ripartenza del Bologna e non gli consente di arrivare oltre il centrocampo. Sinceramente, poi, questi giocatori, cambiando ruolo, è difficile giudicarli. È vero. Cialanoglu, in saghi, gli ha trovato la posizione corretta e riesce a fare cose che, secondo me, nel Milan, nella sua posizione, non avrebbe fatto. Quindi bisogna riconoscere il merito di in saghi da questo punto di vista. È un po' la storia di tutti questi giocatori quando cambiano da una squadra all'altra. Poi gli sfottofano parte dell'essere tifosi. Però, appunto, è difficile giudicare un giocatore da una squadra all'altra quando gli cambi la posizione. Quindi, capisco il rammarico, ma non è detto che Cialanoglu sarebbe stato lo stesso nel Milan. Quindi, bisogna riconoscere che in saghi è riuscito a fare un lavoro pazzesco. Scusa, Simone, perché accelera Sanchez, allarga per Carlos Augusto a sinistra. È un po' troppo forte il passaggio, ma viene molto bene indietro per Bastoni, che crozza per Bissek di testa. Goal! È goal! È goal! Grande Bissek! San Giaia, Bissek con il gigante, giovane Bissek l'ha messa a secondo gol dopo quello con Lecce. Che azione che sviluppa l'Inter a sinistra. Un'azione bellissima. E poi il cross, però, però, però... Attenzione! Attenzione, perché Pairetto dice che c'è qualcosa che non va a protestare i giocatori dell'Inter. No, no, non dice niente. Controllato e quindi il gol è confermato. Cosa hanno voluto vedere non lo so, perché Sanchez l'ha dato a Carlos Augusto, che è andato indietro da Bastoni. Il cross di Bastoni è da regista, perché noi abbiamo i registi che giocano in difesa, gli attaccanti che vanno a centrocampo, i difensori che vanno in attacco, e infatti Bissek, in un inserimento di testa, l'ha messa a 1,96 m, utilissimo. Inter in vantaggio, Internazionale 1, Bologna 0. Posso dirti che il 90% dei calciatori sarebbero andati lì col piede e lui ci è andato di testa. Che giocatore! Altissimo com'è! Ma Bastoni che piede ha? No, eccezionale. Stai parlando di turnover, chiunque metti, l'Inter gioca bene, è così. Grazie, grazie Simone Inzaghi, grazie per questa squadra. Guarda che non è, è uno dei pochi, perché tutti mi nominano soprattutto Marotta, cioè danno, che ce l'ha il merito, attenzione, però Riso è un interista tipico, perché ha sempre ringraziato e mai criticato aspramente Inzaghi, cosa che non è da tutti gli interisti, perché sono tanti che dicono no, Marotta ha fatto il grosso... Ma però la cosa bella di Inzaghi è che lui mette sempre davanti gli altri. Però il gioco te lo dà l'allenatore, non il direttore. Sì, però ogni volta gli viene fatta la domanda sulle sue qualità, eccetera, anche l'ultima volta, l'ultima vittoria in casa, dice, c'è il presidente che sta tutti i giorni, Marotta, Antonello, Zanetti, Ferri, Ausilio, c'è tutti, li nomina i giocatori. E lui si mette sempre un passo indietro. Si vince tutti e si perde tutti, Ruti quando... Che poi ragazzi... C'era l'allenatore che ha vinto l'ultimo scuetto dell'Inter, che dice a chi lo dedichi a me stesso, cioè non è che sono tutti inzaghi che dicono vengono i giocatori, poi viene il presidente, no. Ma chi è l'ultimo allenatore? Antonio Conte. Fai nome, nome e cognome, Orrelli, Abbi, Corazzo. No, è entrato nella storia dell'Inter e nella storia del calcio, perché ha vinto ovunque, ha vinto col Chelsea, ha vinto con la Juventus, parlo ovviamente di Antonio Conte, e sarei felicissimo di vederlo nel campionato italiano l'anno prossimo, perché alzerebbe ancora di più l'asticella della competizione, quindi anzi, figuriamoci. Però a livello caratteriale mi sembrava di più il Conte Football Team quando c'era, invece adesso è l'Inter. Beh, come con Mourinho, ci sono allenatori che accentrano... Sì, però a Mourinho gli piace mettersi, lui lo diceva, il pigiama della squadra che alleno, cioè entrare in empatia con l'ambiente. E poi toglierlo in un secondo, però se devi sentire... Mamma mia! Attenzione ancora a Inter con Barella, il cross per Carlo Saugustore, spinge Posh, ma l'Inter ed io, prima ho detto quando attacca da sinistra, ma pure da destra, dal centro, da ovunque. È veramente un fiume in piena questa squadra. Forse sto iniziando a capire, perché Inzaghi oggi ha voluto fare poco turnover, perché questo tipo di prestazione ti dà una forza, una sicurezza. Poi certo, fare i cambi nel secondo tempo, quelli sì, Mario, me li concedi, i cambi nel secondo tempo li facciamo. Sì, solo se entra Lautaro, per rinforzarci. Ma è un diluvio di cui ci siamo accorti solo ora a Bologna, al Dallara, riso, Borrelli e... E cresciuta l'intensità della pioggia. Invece, da un'inquadratura, un'acqua... Quindi, quindi, terreno pesante, sostituzioni, facciamoli rifiattare. Quanto manca alla fine? Manca un minuto alla fine del primo tempo, sempre 1-0 per l'Inter. Allora, stiamo da te, poi ci scateniamo con i commenti, ovviamente partirò da voi, ma poi voglio sentire anche Chiodo e Filadelfia stuzzicarli un po', eh? Secondo me hanno tanto da dire. Ma sono stuzzicabili, loro sono... Beh, in questo momento cosa hai da dire? Ma c'è un'esaltazione, ma c'è un'esaltazione. Ma troppo bene tutto. Ma va tutto bene. Ma l'ho portato anche la tua. Ma no, va tutto male, l'Inter ha 75 punti, che schifo. 75 punti sono pochi, 70 gol fatti sono pochi. Questa partita c'è poco da dire, dai. L'Inter sta meritando di essere in vantaggio 1-0. Attenzione ancora a Darmian, Barella, ancora un fraseggio buono a centrocampo dell'Inter, che però poi rallenta, ma ora avanza Bastoni, che allarga dall'altra parte, sulla destra per Darmian, Sanchez che cerca ancora Darmian, che si inserisce in area il cross per Barella, anticipato di un niente. Ancora veramente in modalità, sembra di avere, sai, il joystick. Sembra una Playstation, è vero. È una cosa meravigliosa. Se io credo veramente che non sia esagerato dire che è l'Inter dal punto di vista estetico più bella della storia, l'ha detto anche Materazzi oggi, rispetto alla nostra Inter, c'è la sua, quella del triplete, questa Inter non c'è, diciamo, paura a dirlo, è più esteticamente più bella da vedere. Posso fare una domanda? Come no? Poi magari esce mercoledì con l'Atletico, esce agli Ottavi e non vince quello che vede. Io ho un pensiero adesso, ma sono serio. Vediamo prima l'angolo, perché nell'angolo... Faccio il tifoso... Guarda, facciamo l'angolo... Vediamo l'angolo, batte Sanchez, siamo nel primo minuto di recupero, sul primo palo, Bassare, spinta in palo laterale. Ultimi 30 secondi di questo primo tempo, poi tutti... Allora, stiamo da te, poi partiamo con la domanda di Filalezza. Tutte le vostre obiezioni e commenti. C'è Sanchez che si sta divertendo, anche lui, che voleva giocare da tanto, e ora nelle ultime partite sta iniziando a trovare un po' più di spazio. È arrivato anche il gol in campionato, nell'ultima partita, l'assist, attenzione. Bastoni, il cross, lungo per tutti, perché Bissek si era un po' girato qui, fuori gioco, fuori gioco. Quindi credo che qui finirà il primo tempo, alla fine del primo minuto di recupero, su questo rinvio. Anzi no, non c'è nemmeno bisogno di farlo. Pairetto dice, basta così, finisce il primo tempo Bologna-Inter, 0-1. Il gol di Bissek sull'assist, il cross da sinistra di Bastoni, entra di testa il gigante. Hai detto Bissek con un primo tempo, bellissimo dell'Inter, non me l'aspettavo così, devo dire la verità. È vero, è vero. Grande partita, però non mi fido di questo Bologna, se devo essere sincero. Che nel secondi tempi l'abbiamo detto. Prudenza, però mangiamo la torta comunque. Assolutamente, a prescindere. Il compleanno va a festeggiarle, quindi mi sembra giusto. C'era la domanda di Filadelfia. La domanda, Giovanna, grazie. Allora, la mia domanda agli amici interisti, faccio veramente lo sportivo e non il tifoso. L'Inter, nulla da dire sul campionato, ma malaguratamente in Champions, come ti stava dicendo Michele, che uscite con l'Atletico o subito dopo, e capire che il campionato, ormai c'è un divario, ma vediamo che mi permetto 3.000 Juve, ce la giochiamo a chi forse... No, ma non si discute. E nemmeno il peggio è... Che voto date poi? Cioè voi vincete un campionato italiano che però non si può dire formato da squadre... Insomma, nel ranking stiamo di nuovo quasi secondi. Sì, aspettiamo un po' di squadre, va bene. No, è l'ultimo quinquennio, ti parlo. Sì, no, no, ma io sono solo contento. Anche il Milan abbiamo vinto 4 a 2 in 10. L'Italia rischia di portare 5 di pari già. Però nei diritti televisivi non è così, qualcosa vorrà dire. Siamo dietro la Premier ancora anni luce. Però dopo la Premier siamo nel gruppone con la Ligia e la Bundesliga. Appunto, con tutti gli altri. No, eravamo quarti fino a due anni fa. Va bene, adesso. Perché il campionato italiano è l'anno scorso? No, no, ok. Non abbiamo fatto tre finali l'anno scorso? Non fa impazzire perché... Ma l'Inter ha fatto la finale no. Quando altri vincevano, non necessariamente la Juve. Ma scusa, ma... Il campionato italiano... No, la Juve non è scusa. Ma perché erano fatti da anni molto lunghi? Non c'è due anni che vi calciavano. Mi legate veramente, cioè... Allora voi siete contenti? Ma nessuno nega il nuovo scudetto della Juve. Se uscite dalla Champions League siete soddisfatti. Io sono inabituato a parlare con i dati. L'Italia è prima nel ranking, sì o no? No, allora... E allora perché devi dire di no? In che senso? No, tu stai dicendo che non è vero che il campionato italiano... Ma perché a livello del campionato italiano, secondo te, è l'altezza del ranking? Della Liga e della Bundesliga! Sono la Premier davanti. È l'altezza, secondo te, il campionato italiano esprime il miglior calcio che c'è in Europa? O tra i migliori calci del... Sì, per merito dell'Inter. Certo, per merito. E parlano dell'Inter in tutta Europa, però poi devi dire di più. Allora, scusa, Michele, allora voi se uscite con l'Atletico siete soddisfatti dell'annato? L'Inter gioca male, scusa, gioca male. Ma perché c'è delle cose? Ma chi ti ha detto che l'Inter gioca male? Perché non gioca bene solo qua. Secondo te, il livello del campionato italiano è altissimo. Voglio venire con l'Atletico, Giovanni. È altissimo. È solito a prendervi. Va bene. Veniamo da Roma-Brighton 4-0 in settimana. Cioè, il Brighton, che è una bella squadra di... Ottavo o non ho posto in Inghilterra, ma è una bella squadra. Cioè, tu dici, magari ci sono meno soldi rispetto ad... Ci sono meno soldi, ma ci sono più idee. Però scusa, Michele, allora rispondimi alla domanda. Per cui, detto quello che stai dicendo, se tu esci malaguratamente con l'Atletico Madrid, tu sei soddisfatto perché hai vinto un campionato fantastico di squadre. Io distingo il campionato, che era l'obiettivo principe dichiarato alla seconda stella, non mi faccia rovinare l'eventuale festa, da niente da nessuno, pure se esco con l'Atletico. Però, proprio perché l'Inter è così forte, con l'Atletico hai il dovere di giocartela e provare ad andare avanti. Eh, ma ho capito che così forti... Ma se perdi, è forte l'Inter... Però è un campionato italiano fortissimo di squadre, veramente... Ma non ho detto fortissimo di squadre. Ma scusa, ma come fare un campionato italiano ad essere all'altezza, che è due anni, che si vince con una distanza siderale? Ma spiegatemi, lo vuol dire che le altre squadre... Ma è ovvio che è spiegabile, lo sta dicendo Michele. Cioè, abbiamo avuto squadre italiane in finale di UEFA League, in finale di conferma, in finale di centri... Eppure le semifinaliste eravano in Milano. Ma c'è, in semifinali di centri, in Milano e Inter, tre squadre italiane... Ci sono anche gli abbinamenti favorevoli... Ma chi se ne frega, ma i dati di fatto dicono questo. Però, però... Allora è vero, il campionato italiano è il più bello del mondo. Lo dico niente, il più bello, ma calcio is back, è uno slogan che è stato... È il più bello del mondo, va bene. Dopo la Premier... La Premier è il campionato più ricco e più bello. Ma scusatemi, ma spiegatemi, se sono due anni che il campionato italiano finisce con una prima, con una distanza siderale dalla seconda, che campionato equilibrato è? Perché mica è bello se è equilibrato. Ma è merito delle prime, eh, non vorrei che... Ma pure la terza categoria può essere equilibrata. È merito delle prime, ma visto che fai l'analista, analizza questo dato, analizza... Non guardare il rating, che sicuramente è importante. Analizza questo dato, se per due anni il campionato italiano finisce con una squadra che stravince, le altre no. Vuol dire che non c'è equilibrio nel campionato. Che c'entra, l'equilibrio. Che c'entra. Cioè l'equilibrio vale la forza della squadra? In che senso? Del campionato, io parlo di campionato, non della squadra. La Livia finisce 20 punti. Madonna, te lo dico, l'Inter gioca bene, te lo dico. Oh, ce l'hai fatta dopo la domanda di trasmissione. Ce l'ho detto anche prima. Allora, se tu vai in terza categoria... Ma qual è? Ce l'ho fatta. Però io ti ho detto anche che se non è equilibrato il campionato italiano... Eh, certo che non è equilibrato, perché l'Inter sta vincendo tutte le partite. Ma è il Napoli l'anno scorso uguale. E quindi non puoi parlare di un campionato equilibrato. Ma è il Napoli l'anno scorso, l'hanno parlato in tutta Europa del Napoli l'anno scorso. Borrelli, te la traduco perché è quello che io raccolgo anche nel commento... Hai capito? Ma che siamo espressi male, non Giovanni? No, no, non perché abbia bisogno di traduzione. Sei stato chiaro, però io sono più diretta, vado più, insomma, al cuore. Si chiama diretta scusa? Eh, certo. Quindi è giusto che devi interpretare il team... Cioè abbiamo fatto i complimenti alla Juve fino a un mese fa che era attaccata all'Inter. No, ma loro vogliono dire, e tanti la pensano così, l'Inter, il vero valore alla stagione dell'Inter è la Champions che lo dà perché vincere un campionato contro squadre scarse che hanno fatto Arachiri fin dalla prima giornata è troppo facile. Non ci cascare, Michele, non ci cascare. Questo non lo dice, il campionato non ha detto questo. Il 4 febbraio, un mese fa, il 4 febbraio, un mese fa, Inter-Juver a scontro diretto a un punto. Bravissimo. Eh, quindi non è vero che era l'inizio dell'anno. Allora, voi se uscite dalla Champions criticate in zaino. Adesso venite a prenderci. Ma lo firmo, lo sottoscrivo. Non lo critico. Allora, intanto, la mia visione è questa. Io sono ancora rammaricato per essere stato buttato fuori malamente a San Siro dal Bologna in Coppa Italia perché ogni trofeo merita di essere giocato e vinto. Quindi, partendo da questo presupposto che per me era un trofeo che potevamo assolutamente snobbare meno, per certi versi. Ti dico anche che il campionato quest'anno sarà un campionato speciale perché consente all'Inter di aggiungere una seconda stella. E quindi, già, questo è stato l'obiettivo conclamato, come abbiamo appena ricordato. La Champions, oramai, è diventata per l'Inter un dovere. Cioè, perché è una squadra rispettata in tutta Europa e quindi, partendo dal presupposto che uno solo vince, se l'Inter uscisse con l'atletico meritatamente, quindi per cause esterni, io lo accetterei. Il Milan, quando vi stravinceva i campionati, vinceva anche le Champions. Ma infatti stavolta. Il Milan ha vinto il campionato due anni fa. Il Milan ha vinto il campionato due anni fa, Alessandro. Il Milan ha vinto il campionato due anni fa. La Juve ne ha 29 consecutivi. Il Napoli ha vinto l'anno scorso. Quando la Juve ha 29 consecutivi, abbiamo detto che una squadra fortissima ha fatto due finali. Il Milan de Recor, andava. Ma no, io sono convinto che voi vincerete la Champions per la forza che avete. Siamo dicendo che abbiamo visto una Juventus vincere nove campionati con due finali di Champions. Questa è cattiveria vera. Perché voi le cattiverie vere, credete che arrivano da me? Sono arrivato da me. Sono suggerito. Qual è la cattiveria che vincete la Champions? Vedete, con la forza che avete, secondo me è vincente. No, ho fatto. Allora, io credo che Real Madrid e City siano superiori all'Inter. Real Madrid e City. Non credo proprio. Io, è la mia opinione. Real Madrid e City. Sono le due favoriti. Possono succedere nella serata magica. Real Madrid, stavo uscendo con l'Ipsia, può succedere. Real Madrid è una serata no. Tu che fai una partitissima, oppure che non ti capita nel sorteggio, come dice Simona, perché succede pure questo. Io sono convinto che voi arriverete fino alla fine. Domanda. Se la gioca. Se non succede. Se non succede mi godo il campionato. Che voto dai? Dici ok, ho vinto il campionato. Cioè, con questa Inter pensi di arrivare fino in fondo, anche dato che il campionato italiano... Ma non è vero, non è la testa di serie numero uno, l'Inter è nemmeno numero due. Quindi non è per niente scontato che possa arrivare più in fondo. Ma l'Inter di quest'anno la vedi meglio dell'Inter dell'anno scorso? Sì, sì. Allora quest'anno lo batti il Manchester. Non è detto, non è detto. Parlero che la palla è rotonda, sono 90 minuti. Il City, secondo me, è uno squadrone, dai. Il City per me è fortissimo, il Real Madrid è fortissimo. Però posso dirti qual è la grande soddisfazione per noi tifosi dell'Inter? È che da due, tre anni a questa parte, ogni volta che c'è un sorteggio, sono gli altri a preoccuparsi di... L'ha detto arrivi. Appunto. E allora, quando tu arrivi a essere rispettato a livello europeo, del ranking o del fatto che il campionato italiano sia allenante più o meno, me ne frego, perché i dati di fatto dicono che gli allenatori internazionali e le società internazionali sperano di non incontrare mai l'Inter. E va bene. Però giocare bene con 15 punti di vantaggio... Perché prima giocava male. Prima, quando erano testa a testa con la Juve, non ha fatto partite come oggi. Ha vinto 8 partite con 4 gol di scarto su 28. 8 partite con 4 gol. Sono medi anni 50-60. Ha vinto 5-1 il derby, 4-0 a Fiorentina. Come il Napoli l'anno scorso. E il Napoli l'anno scorso abbiamo detto è un gioco bellissimo, un gioco fantastico. Cosa voglio dirti? Voglio dirti che quando si crea un certo tipo di distacco, che nel campo probabilmente c'era già, si crea anche una facilità nel giocare che sicuramente agevola l'Inter o l'Apoli l'anno scorso. Simone, la Juve ha vinto 9 scudetti consecutivi, ma hanno mandato via Allegri perché volevano vincere giocando in un certo modo. Quindi anche loro non erano soddisfattissimi dell'espressione. Allora, vi faccio io una domanda. Secondo voi la differenza, cioè la voragine che si è creata tra l'Inter e le altre, è perché sulla carta c'è questa voragine a livello di qualità di Rosa o perché l'Inter è stata più squadra? Ma i fattori sono tanti, Giovanni. Non si vince solo per l'allenatore, come ha detto, come se si vince perché dietro c'è una società, si vince perché le altre società hanno altri problemi, perché hanno creduto, hanno fatto sicuramente... Le circostanze sono... No, grazie Giovanni! No, scusa, non volevo! No, perché gli altri non hanno creduto su Turam! Poi gioca bene, è vero, gioca bene, ha avuto anche le partite difficili, sono andate sempre nel verso giusto, quindi è più facile, ragazzi, così... L'Inter ha cambiato 14 giocatori quest'anno, era difficilissimo fare una roba del genere, non ho mica detto che non meritate di... 14 giocatori cambiati! Mi ha fatto una domanda, non c'è niente di incredibile, scusatemi, mi ha fatto una domanda, io ho detto che si vince per una serie di circostanze, l'Inter è sicuramente le più forti, le altre hanno mille problemi, fuori dal campo e dentro il campo, fuori dal campo parlo della mia squadra, anche l'Inter c'è problemi fuori dal campo, ma no, ma per carità, i soldi ve li prestano, quindi non c'è problema di... non c'è fuori dal campo, ma voi non avete problemi, voi siete immacolati! Io dico che hai problemi, e tu dici che non ce l'ha, ma non ce l'ha! Ma io sto dicendo che all'inizio dell'anno, quando l'Inter perde Onana, Skrini, Arbrozovic, Lukaku e Dzeko, tu dicevi che era la più forte, che non ha problemi, che gioca bene... No, non lo diceva nessuno! No! No, qua dicevano tutti, sei indebolita, vediamo quest'anno come va... Non c'era, non l'ho detto questa cosa, o sono arrivato quando l'Inter già iniziava ad essere... Ci sono diverse scuole di pensiero, perché c'è anche chi dice che da tre anni che l'hanno vinto, l'anno dello scudetto del Milan, sia l'anno della clamorosa stecca di Inzaghi, un po' l'hanno pensato anche i dirigenti, perché volevo in eseggerare... Per me era la più forte anche l'anno che l'ha vinto il Milan, però il Milan è stata la più brava! E quindi, sia la terza, questo fosse l'anno della verità per Inzaghi, non lo vinci, perché sei evidentemente... No, loro dicono che ce l'hanno regalato! Allora, voi sapete che cosa penso io? Non fanno l'ha vinto e ce l'avete regalato! L'ho detto ogni volta... Questa è la vostra mentalità! Non l'ho accetto! Ogni volta che sono stato in onda... È stato detto, Mario! No, ogni volta che sono stato in onda, ho sempre detto che in quella stagione in particolare, non l'ha perso l'Inter, ma il Milan è stata danneggiata ripetutamente in troppe occasioni. Chi? Motivo del perché il Milan, quando ha vinto lo Scudetto... Complimenti e chapeau! Il Milan era stato danneggiato in più occasioni... Tutti guardano Bologna! Non guardano quello che stai dicendo! E per quanto mi riguarda, c'è stato un momento nel quale l'Inter non riusciva più a vincere, ma parimenti c'è stata una squadra come il Milan che in qualche occasione è stata troppo penalizzata e io, se devo essere sincero, nonostante quello mi sono ritrovato a giocarmi lo spareggio col Bologna... Ma gli episodi ci sono stati anche dall'altra parte, ma sono stati in meno... Sì, però... Sdocciano tutti, dai! Sdocciano tutti, dai! Sì, sì, sdocciano tutti! Io mi ricordo sia Mila Spezia e Mila Rubinese in cui Mila è stato penalizzato, Mila Spezia e Mila Rubinese, il Milan penalizzato, ma anche Lazio Milan in cui c'è un giocatore che spinge a Cerbi Tonali a due mani, quello è fallo! Così come Bologna Inter, Ferisic sull'1-1, scontro diretto decisivissimo, subisce fallo sotto la panchina, però non se n'è mai parlato, mentre il caso di Mila Spezia è passato... Non se n'è mai parlato quello di Bologna Inter. Allora adesso lo scudetto non lo vincete, voi lo perdiamo tutte le squadre in Italia. No, io ho detto... Allora, però dobbiamo capirci, Giovanna sta dicendo che è un demerito dell'Inter il primo anno di Inzaghi, demerito di Inzaghi perché l'Inter era più forte. Cioè era una cosa peggiora che si era per l'Inter, certo! Dicendo che... E tu dici che non ammettete! Allora ti dico che era più forte il Milan, quindi l'Inter non ha sbagliato niente. Il Milan con l'anno ha fatto un scocco, non riuscite a capire nemmeno quello che si dice. Riconoscendo che fosse favorita, soprattutto in quell'anno lì, rispetto alle altre, ma poi per vedere... Il Milan è stato bravissimo, non riconoscere la bravura del Milan, che anzi non era la squadra oggettivamente più forte, di solito il campionato lo vince, la squadra più forte, e lì c'è stato un ribaltamento anche... L'altro è stato un campionato meraviglioso, perché le ultime cinque giornate è stato un testa-testa meraviglioso, perché bastava che una squadra sbagliasse, e invece non è successo, hanno vinto le ultime cinque partite sia l'Inter che il Milan. Lo dicevo io prima non andava bene. No, gli ho detto che secondo me il campionato non è equilibrato, prima ho detto vabbè, non andava bene. Fino a febbraio è stato punto a punto. Fino a Inter Juve, punto a punto o no? Cioè me lo sono sognato. Quando c'era il più uno virtuale... Più uno, la Juve è andata in testa a fine gennaio. Ma ci sta, come li capisco. E' stato punto a punto. Poi se una squadra vince tutte le partite, cioè sta andando su una media di 105 al momento, è normale che pur brava la Juve dietro... Ma non diciamo così, per favore. Però allora voglio spezzare una lancia a favore dei tifosi della Juve, dicendo questo. Non spezzare la lancia... Grazie, non abbiamo bisogno. Sentiamo la lancia, poi vado in pubblicità. Già troppi problemi alla lancia, c'è arrivato. I tre apri, i tre apri, i tre apri velocissimi. Fammi dire questa cosa. Non spezzare la lancia, che poi ci arriva nell'occhio. Ti ringrazio. L'anno scorso il campionato della Juventus è stato determinato da alcune, purtroppo, cose che hanno generato nella gestione dello spogliatoio e dell'allenatore problemi di penalizzazioni. Tolte date, tolte date. Quindi il campionato dell'anno scorso potenzialmente non è stato equilibrato anche perché l'Inter da subito ha dimostrato di avere la testa da un'altra parte. e la Juve non è stata messa nelle condizioni di potersela giocare con serenità perché a lato pratico la Juve è arrivata terza ma con le penalizzazioni è stata estromessa da tutto. Quindi l'anno scorso è stato davvero un anno atipico. Io credo che però l'Inter rispetto alla prima Inter di Inzaghi che abbiamo parlato di due anni fa ma anche di l'anno scorso che era un Inter che voleva andare nella metà campo avversaria magari durante la stagione aveva dei cali fisici perché è difficile andare sempre a fare gioco 90 minuti di tutta. E' il mese del calo. Mentre questa Inter sa più scegliere i momenti della partita adesso il secondo tempo si è messa lì ma non perché il Bologna la schiaccia ma perché sceglie di stare bassa E' più intelligente chirurgicamente cambia l'atteggiamento tattico in base al risultato No no è maturata Ma è maturata Ma è maturata Io più di così domani porto un violino Ragazzi datemi un violino Sì Prima ho fatto anche la battuta Barriere come l'Inter non le ha nessuno Non le ha nessuno Barriere come lì Hai ragione Mi taccio Io mi taccio perché ogni cosa che dico può scatenare polemiche quindi di fronte ad una bellezza del genere cosa vuoi dire? Mi chiede ma hanno dato ragione che hanno la barriera migliore Simone Non si può dire Mi chiede ma hanno dato ragione che hanno la barriera migliore Ma te la giustifico Quando il Mila dice lo scudetto Arnauto vince segna No dai Michele Ti prego Non mi giustificare la barriera Ti prego Ti giustifico No dai Veramente Se no veramente Se vuoi Allora No no Finisco la frase Se stai scherzando va bene Concentriamo Se non è uno scherzo Ti prego Di lasciarmi un attimino respirare Vabbè però Se non volete credere Arnauto vince salta su Di Marco Arnauto vince salta su Di Marco che faceva spesso il terzo di difesa e spesso andavano a saltare su Di Marco che è un metro e settanta Quest'anno l'Inter è richiesta di Inzaghi Ti prego Voleva più centimetri più fisicità Adesso dietro a Visek un metro e novanta sei a Carlo Sogusto un metro e ottanta quattro che va dietro nei tre di difesa È difficile andare di testa su questi Questo è merito di Inzaghi Lui ha fatto la battuta ma c'è un fondo di verità su questo Su ogni battuta c'è un fondo di verità Allora io so che Voi siete la verità Ragazzi Voi siete la verità Entra in Doie Entra in Doie Siete uno Siete tre di Siete tutto Entra in Castiga Inter Siete tutto Entra in Castiga Inter Ha segnato in Coppa Italia E ogni cosa che dici che non è così è polemica Quindi chi si segue da casa Siete immensi Non voglio rispondere fino alla fine della partita Stanno facendo di tutto Per provare A me non faccio Ma io mi sto divertendo Se volessi provocare Mi sto divertendo Entra in Doie In Doie Al posto di Il Castiga Inter Come giustamente hai ricordato Castiga Inter in Coppa Italia Quindi attenzione Le prova tutte Tiago Motta Adesso con Doie C'è ancora Orsolini L'ultima arma magari da giocarsi L'anno scorso segnò proprio lui Il Bologna che ora è in possesso palla Sulla sinistra C'è Dumfries che Prova a contrastare Il giocatore del Bologna Che avanza E Christian Sen Ora il tiro da fuori Palla che esce Alla destra di Sommer Il Bologna alla fine Non riuscendo Ad andare in aria Col fraseggio Dice iniziamo a tirare anche da fuori E Ferguson ce l'ha Il tiro Ci prova Non la prende proprio benissimo Palla che esce Alla destra di Sommer Ma giusto perché Ahimè ricordo tutto Anche la La sbracciata di Dumfries Quando il pallone Non gli è arrivato dove voleva Cioè sul piedi Con chi ce l'aveva Chi era il tiratore frango Con Acerbi Con Acerbi Quindi Dumfries WS Acerbi Polemica Polemica Screzio Scintille in campo Riso si è preoccupato Io ti conosco Ti vedo Ti vedo teso Questi sono i minuti Nei quali Tutto quello che succede Non è più possibile Ripararlo Ma è il 40 e il 50esimo Quei dici così Quindi io voglio stare molto attento E non cascarci Ma vedi i discorsi Che noi diciamo di voi Anche se pareggi Cosa ti cambia Ti va la cena Mi cambia che mi tocca Sopportarvi E quindi preferisco Che vinciamo Ma tanto loro Se fai 105 punti Dicono che non è vero Che gioca bene Bella Bellissima I record Ci può stare Con la quarta del campionato Che pareggi Eh infatti No non ci può stare Io voglio vincere Soprattutto da parte del Bologna E di raddrizzarla Ragazzi a voi Voglio citare il mio amico Danilo Saruggia Che salutiamo nel giorno Del compleanno dell'Inter Storico Ciao Danilo Più grande interologo vivente Di che classe è Bastoni? Infinita Bravo Veramente un giocatore E' cresciuto tanto Anche in marcatura Che forse era un po' Il suo tallone d'Achille Perché è sempre stato bravo A proporre gioco Ma anche dietro E' molto più attento Molto più bravo Anzi io gli avrei risparmiato Qualche minuto oggi Ora c'è una punizione Per il Bologna Mancano un minuto e mezzo 90 secondi Più recupero E il Bologna sta veramente Le sta provando tutte Nel periodo in cui Non siamo stati collegati Orsolini di testa Salta su Darmian Di fronte a Sommer Ma la vuole angolare L'angola troppo La palla esce Di tanto sul fondo Ma è stata una grande occasione Perché il cross da sinistra Era stato fatto molto bene Doi adesso sta dando Un po' di imprevedibilità La manovra del Bologna Quindi se l'era giocata così Con Doi e Orsolini Nel finale Tiago Motta ci sta provando Adesso punizione dalla tre quarti Palla al centro Attenzione respinge ancora Frattesi Un Inter che ricordo In questo momento Ha questo centrocampo Completamente inedito Frattesi, Aslani e Klasen Che si è fatto anche ammonire Nella protesta Dicevamo prima Per un fallo laterale Ultimo minuto di gioco Poi vedremo il recupero Inter che deve stringere le maglie E stringere un po' le linee Tutta compatta A difendere anche con gli attaccanti Il Bologna che attacca Ci crede Insegue il quarto posto Storico per la formazione Di Tiago Motta Di Saputo, Di Sartori Meriti comunque a loro Comunque vada Andoia attacca a sinistra Salta Sanchez Iscivolata Ancora Andoia Il cross respinge Bissec Ancora lui Onnipresente In calcio d'angolo Calcio d'angolo Cornerone per il Bologna E quindi piove Ancora veramente tantissimo Come piove Tantissimo Copiosamente Copiosamente Allora dai rimaniamo Tanto abbiamo poi modo Finita la partita Settimo calcio d'angolo del Bologna Solo due quelli dell'Inter Che nel secondo tempo Non è più riuscita a ripartire A Cerbi che dice Marchiamo, marchiamo Tutti stretti, le marcature strette Ultimo minuto di gioco Ultimi secondi Poi ci sarà il recupero Batte il calcio d'angolo del Bologna Respinge l'Inter Ma la palla finisce ancora Nei piedi dei giocatori del Bologna Che alimentano l'azione Con Freuler Ex Atalanta Come Sartori Attenzione ancora il Bologna Che allarga Ora a sinistra Palla che va Da quest'altra parte E quindi il giropalla del Bologna Che ci crede fino all'ultimo Ora viene Orsolini In mezzo al campo A tentare l'1-2 Vediamo se c'è un fallo di Acerbi L'arbitro dice No, si può proseguire Ora il fallo però è su Aslani E quindi 5 minuti di recupero Bravo Aslani Che con queste partite consecutive Che sta facendo Gli fanno bene Perché è difficile giocare a 22 anni In quel ruolo La squadra gira intorno a te Non può essere Cialanoglu a 22 anni Ripetiamo 22 anni oggi Stanno facendo il compleanno In campo Tutti oggi Tutti gli interisti del mondo Compleanno Hai riso Tu hai portato la torta Amica Non solo per l'Inter L'Inter e tanti interisti Certamente Ma anche per rincorrare Un po' i tifosi avversari Un po' di dolce Fa sempre bene Ma quando è che la tagliamo Sta torta? Io vedo l'ora Da inizio trasmissione Che ce l'ho qua davanti La mangerà Paolo Marcello Le 20 e 30 Ho già capito Quando riprenderà la seconda parte E io ne sarò molto felice Il compleanno I 116 anni Della bene amata Della bene amata Inter che vuole chiudere Facendo un po' L'Autovic Ci ha coperto bene qua Ha senso unico Gli ultimi Specie di ultima mezza Bologna secondo tempo Ha pressato tantissimo Però al calcio Non si fa i punti No è vero Non si fa i punti Però la partita non è finita Attenzione Attenzione Fino all'ultimo Inter Che vuole tenere l'attenzione alta Inzaghi Che sta dando indicazioni ai suoi Sotto la pioggia Sotto la pioggia Ma non vuole Collare l'Inter Allora cercano Arnautovic La sponda di testa Ora Aslani Che gira per Klasen Attenzione Bologna che recupera palla Può ripartire Inter che non si deve far trovare scoperta Cervi respinge Klasen però è superato Allora arriva Bastoni Bastoni E la spazza via Lontano 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 Come direbbe Direbbe Baglioni Lontano Lontano Voi non ce l'ha fatto più ragazzi Voi avete dei grossi problemi No non ci dovete distruggare In questi momenti Non ci casco Voglio guardare Due minuti se ne sono andati Ne mancano ancora tre Bissec Che vende via Bissec C'è un cittadino Delle cose incredibili Ragazzi Veramente Io mi sono Non ci distruggono Andoglie a sinistra Andoglie contro Dunfris Attenzione Lo punta Lo punta Lo punta Arrivano i rinforzi Arrivano i rinforzi Di Frattesi E quindi punizione per l'Inter Davide Frattesi Bravissimo Bravissimo Frattesi Due minuti e quindici Ne mancano due 45 Mamma come piove adesso E allora stiamo con voi Per questo finale di partita Una partita che vuol dire tanto Voleva dire tanto Questo mi sa che lo possiamo quasi dire Il compleanno dell'Inter Questo è un sigillo Se dovesse finire così Ma è un sigillo Mi faccio che ora mi ricordo Quando sarà il compleanno dell'Inter Che è mio Anche di Aslani Sarebbe un sigillo A 75 punti 75 punti Alla ventottesima giornata Ma lo ripeti scusa Anche se le scette Perché Mi sa che da casa Non hanno capito 9 marzo Ne mancano 30 C'è l'Inter Che può fare 105 E i centimetri in più In barriera Ma io non li voglio 105 Io non li voglio 105 Non mi interessa Di bastoni No ecco Il rinvio di bastoni Te lo contesto Perché è stato un rinvio Agli ultimi minuti di partita I secondi Viva il parroco Poteva magari gestire meglio la palla Ma l'hai descritto come se fosse stata Un'azione Un'azione Da musicista Cioè onestamente Bastoni è arrivato nel momento giusto Quello sì Due minuti in più sta dando Ci sono le proteste di Inzaghi Perché? L'arbitro dice Due minuti in più Ma come due Uno Forse faceva segno a qualcuno Della panchina Come due minuti in più No no due minuti in più No Faceva segno due l'arbitro Ma non era per il recupero Trenta secondi sicuro Bravo Rautofi Trenta secondi in più sicuro Siamo a 93 e 40 Quindi manca Uno e venti più Trenta secondi Perché questa protesta La panchina è andata a rispondere E poi ha dato il recupero in più Dunfris che subisce un'entrata Lo va a alzare in doi Ma Dunfris dice Guarda mi sono fatto male davvero Ora provano a rialzarlo Il secondo tentativo è quello giusto Si rialza Dunfris Mi riesce anche a interpretare È peggio di me È peggio di me Che sceneggiata però Dunfris dai Non fare così Sei rialzato Alla fine sei rialzato Bravo Rautofi Vedi il riso è la parte Allora Ma Borrelli è un romantico Quindi si fa prendere Un po' da Il riso è più razionale In questo Sturmbugrang Allora romanticamente Andiamo a fare il secondo Il prefisso da fuori Milano No? Klassen non riesce Non riesce a fare giusto Un passaggio di piatto Eh ragazzi Il Bologna recupera la palla Ancora un pericolo Fino all'ultimo Il Bologna veramente Ci crede strenuamente Con il cuore Ancora Arnautovic Che recupera Ma poi la perde Cosa fai Arnautovic Le spinge Klassen Mamma Arnautovic Aveva fatto una cosa buona E poi però Ha rovinato tutto Passando la palla Agli ex compagni di squadra C'è però Lo stesso Arnautovic Che ha preso un calcio E quindi Pairetto Deve fermare il gioco Ma si fermiamo E mi sa che si è fatto male Arnautovic però Perché batte il pugno a te Tempo dice Tiago Motta Tempo Tempo Ma anche l'arbitro Ha fatto vedere E beh si e ci sta Però mi sa che Arnautovic Qua non sta facendo finta Perché si è fatto male Si è stirato Si è stirato Si è stirato Arnautovic Eh si E è andato a fare Ecco perché non fa quello Che gli chiedo sempre io di fare Di prestare ovunque Perché ha paura di farsi male Beh ma l'avete preso che si sapeva Perché aveva giocato tre partite Su 30 Però questa è la seconda volta Quest'anno La prima volta è stato fuori Un mese e mezzo Non ci vuole Perché nelle rotazioni Adesso vabbè È finito marzo Perché c'è la sosta Ma ad aprile Se vai avanti in Champions Ti serve Ti serve come? Tiago Motta Ma cosa vuole Tiago Motta? Ma ti fa recuperare Sta a terra Si è stirato Che cosa Come fa? Perché Tiago Motta Non ti sente Michele Ti dico che non ti sente Nessun Ma non ti sente Quindi Cioè Speriamo che però Magari non è stiramento È indiavolato Tiago Motta Eh no è stirato Dai si tiene la coscia Ma da com'è da com'è Anche perché ha battuto a terra Duro la gamba Non perché per il dolore Ma per il fatto che Come quando si è fatto male a Empoli Aveva capito Che era un Un infortunio muscolare E quindi purtroppo sa Che deve adesso stare fuori Ma non si possono fare più I cambi No i cambi sono finiti Siamo al novantasettesimo Ma ci sarà il recupero del recupero Ora provano a buttarsi anche a terra Dice Pareto Alzati al giocatore del Bologna Vai Aslani E quindi può ripartire l'Inter Che però è in dieci Non c'è Arnautovic davanti Aslani che gli tirano la maglia E quindi punizione per l'Inter Sto doppiando tutti i giocatori Direttori di gara Siamo o non siamo I primi doppiatori al mondo Noi italiani E quindi l'Inter è Capolista nel campionato italiano E doppiamo anche noi Guarda Guarda questo che si mette le mani in faccia Che ne ha preso sulla spalla Possiamo dire che l'arbitro Sta arbitrando davvero bene Brava Figlio di cotanto padre Pareto è stato bravo E anche Mazzolini Diciamo che non è successo niente Diciamo di difficile da rimere Però un'azione tipo questa Con persone che si buttano a terra Non c'è cascata Bisagli dice è finita È finita Siamo al novantasettesimo C'è il recupero del recupero È giusto un minuto È giusto due Ma dice Buon compleanno Può bastare così L'internazionale E spugna anche Bologna Sono dodici vittorie Due pareggi fuori casa E una marcia trionfale E un Inter spaziale 75 punti Anche il Bologna Battuto Capolista Salutatela Più 18 Più 18 ragazzi Nemmeno nel derby Lo facciamo prima del derby No Ne perderei qualcuna Per arrivare nel momento giusto Ah vedi Il 21 aprile Vorrebbe vincerlo contro Sarebbe proprio Tu dici L'annata L'apoteosi L'apoteosi Tutto quello che non vuole Il tifoso del Milan Accadrebbe È vero Alessandro Che ci sono dei tifosi Che stanno Diciamo regalando Amici interisti L'abbonamento Perché non vogliono essere presenti A uno scempio del genere Io lo cedo infatti Perché ho paura di perdere Lo prendo io Volentieri Sarebbe una giornata storica Vedere i cugini Che alzano Che vincono lo scudetto Sì mi ricordo ancora I caroselli per Milano Lasciamo stare Questo cinismo Non è bellissimo Io invece Giovanna Continuo a essere cinico In una maniera Di giocatori dell'Inter Mai violenza Però sfottò un po' Questo derby Lo vinciamo noi Stavo Perché come avete altro Da pensare Un derby In cui i giocatori dell'Inter Accolsero con l'applauso I campioni del mondo del Milan Nel 2007 Ma adesso Borrelli Ma non puoi augurare ai milanisti Una legge del contrapasso del genere Ci sta che il milanista Dica Vincetelo E va bene Ma in qualsiasi partita Non nel derby Dai Allora in casa nostra Dai facciamo la domenica dopo Ci sta Sei sadico Veramente Beh sarebbe brutto L'Inter non lo vince in casa Sapete da quanto Dall'89 Gli ultimi sei scudetti Non l'ha mai vinto in casa Quindi potremmo rimandare O Inter Cagliari Prima O Inter Torino Il 28 aprile Va bene il 28 aprile Ma io farei due feste Anche perché ascolta Dopo l'ultima volta Cos'era Inter Sandoria Che mi ricordo San Siro Molto triste Che avete perso Che io ero a Reggio Emilia Abbiamo dato il risultato sbagliato Ma questa è un'altra storia È giusto Questa è una Giusta ridotta Allora potremmo vincerlo Col Sassuolo Per vendicarci di quel Sassuolo Milan E quindi 5 maggio c'è Sassuolo Inter E avete tolto Veramente la voglia Di interagire A chiodo No io questa Devo difenderla Questa voglia di interazione Di un chiodo Sempre combattivo Ha tenuto viva Come nessuno mai L'ho sentito dire Che giustamente Ogni cosa che dicevo Diventava fonte di polemica Ho preferito Lasciarli festeggiare Il loro compleanno Il compleanno Di tutti gli undici giocatori Della squadra Gli slinsheet Di tutte le cose Onore a te Mi sono messo a guardarvi A onorare la vostra cosa Anche le vostre cantate Cantate pure Cantate pure Io non Simone hai fatto come L'allenatore della Juve Allegri Che aveva fatto Tutte quelle battute Simpatiche a gennaio Ma io non faccio battute Io ho detto la verità Io sono stato zitto Io non ho fatto battute Io mi sono espresso Esattamente così Sono stato zitto Giovanna No no Ha voluto Lasciare Il palcoscenico Sono una persona Molto Conscienziosa Quindi Ho lasciato anche perché Snocciolate numeri Ma noi ti ringraziamo Di tutto questo Perché Mi devi ringraziare Devo dire la verità Che questa partita In particolare Era sicuramente Un po' Un trabocchetto Perché Abbiamo sbagliato Più e più Io non l'aspettavo Mario Inter Così Se anche pareggiavi Non succedeva niente No no Succede sempre qualcosa Vabbè Ho capito Quindi meglio così Perché bisognava festeggiare I 116 anni dell'Inter Nel modo giusto Ci sono già due partite Che vincete di cortomuso Quindi 116 anni Giusto L'ho capito bene Crisi È un po' Crisi È vero No è Crisi Da 4-0 a 0-1 E beh insomma C'erate 4 gol Il Bologna non perdeva in casa Da Bologna a Mila La prima giornata Attenzione